La manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Udine alla Trennale. Il titolo di questa manifestazione è Il futuro fatto a mano. Doriano Mattellone di VUAI, il futuro sarà fatto a mano? Penso che sempre andando avanti sempre più sarà fatto a mano, per una logica abbastanza semplice. La gente apprezza e capisce al volo quando un prodotto è toccato dalle mani ed è lavorato con le mani. Per quanto industriale possa anche essere questo. Tu però mi hai detto che mettere in serie gli oggetti implica una lavorazione che è prettamente industriale. Quindi dobbiamo parlare di industria artigiana o di mix tra industriale e fatto a mano? Io farei una precisazione. L'artigiano visto nel senso proprio della parola può fare riferimento alle opere d'arte. È un oggetto singolo. L'artigianato industriale conserva le qualità di un prodotto artigianale pur avendo dei processi industriali che sono necessari per creare più oggetti. E nel caso degli occhiali di legno quali sono questi processi e qual è il mix tra industria e artigianato? Innanzitutto parti dal lavoro principale che è scegliere i fogli di legno dove c'è la componente non solo manuale ma anche umana, capire le essenze nelle loro diverse risposte tecniche quindi il faggio, il rovere, il noce, il ciliegio. E l'uomo ha queste conoscenze, conoscenze che una macchina selezionatrice non potrebbe avere. dare l'ordine poi ai fogli è pura fantasia, una macchina la potrebbe fare, la imposti ma una macchina non interpreta, un po' se vuoi come suonare un pianoforte da un robot suonare un pianoforte da un maestro, il maestro interpreta e il robot copia. Quindi questa parte artigianale ci sta tutta. Per inserire un oggetto sul mercato, vedi l'occhiale, lo chiamo oggetto abbiamo bisogno di una componente industriale, tecnologica.